Un'azienda che negli ultimi anni ha certamente stabilito un nuovo standard qualitativo per quanto riguarda le lampade frontali è senz'altro la LED Lancer. In questo caso abbiamo un modello H7, una lampada frontale monoled in grado di sviluppare una potenza di 170 lumen. Porta tre pile mini stilo ubicabili in questa cassetta posteriore dove abbiamo anche una levetta che può regolare l'intensità luminosa, un'altra levetta sulla ghiera regola invece l'ampiezza del fascio. Nel foglio dei dati tecnici di questa lampada viene riportata un'autonomia a basso consumo di 54 ore. Esiste poi un ulteriore modello, l'H7R, che porta pile ricaricabili sia tramite trasformatore a 220 volt che tramite portale USB.